Ragazzi, se riusciamo a sparpagliarci un po' e tenere lo striscione in primo piano è la visibilità migliore. Dietro sparpagliamoci un po', lo striscione in avanti in primo piano, per piacere. Striscione in avanti e dietro sparpagliatevi, anche sulla destra. Più avanti, a destra, sparpagliatevi, stai! Più sparpagliati! Sempre di più! Andalo lì, andalo lì. Grazie, grazie! Non pregatevi, tristori in maniera, basta! Sì, ciao caro! Ciao! Ti magna? Si beve? Si, 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 si! ... Grazie a tutti.